In onore della quarta edizione del progetto Sharing Breast, Forlì torna ad essere la capitale italiana del respiro. Venerdì 9 e sabato 10 settembre, la città ha ospitato numerose iniziative, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle malattie polmonari. Gli eventi sono stati promossi da diverse associazioni, fra cui AMMP e Xan Forlì-Sezena. Nel pomeriggio di sabato 10 settembre, presso l'antistagio dello stadio Morgagni di Forlì, si è svolto il quadrangolare di calcio che ha visto sfidarsi in campo l'associazione sportiva Ferrari Formula 1 Solidarietà, la squadra dei Lasciami Correre affiliata a Xan, una rappresentativa di professionisti sanitari dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì e la squadra selezione del SIULP, primo sindacato di polizia in Italia, segreteria di Ravenne Forlì. Xan Forlì-Sezena è intervenuta con una delle due terne arbitrali che si sono alternate durante la manifestazione, composto da Marco Fanizzi, Stefano Sartor e Omar Gava, ex arbitro di Serie A. Il torneo si è concluso con la vittoria della rappresentativa Lasciami Correre, che ha battuto in finale la squadra dell'associazione Ferrari Formula 1 Solidale. Il terzo posto è stato ottenuto dalla squadra del SULP ed in quarta posizione la compagine del Morgagni Pierantoni. La premiazione è stata preseduta da Manuela Russo, referente Xan Forlì-Sezena e vicepresidente Regione Emilia Romagna.